La sua strategia europea sull'immigrazione domani ci confronteremo per quanto attiene gli aspetti più propriamente legati al riflesso che c'è sul fronte della giurisdizione, traendo anche un po' le conseguenze delle deliberazioni su cui si è chiuso il vertice di oggi. Credo che sia importante un approccio comune anche per definire regole comuni su come la giurisdizione interloquisce con questo fenomeno.